Dur Dental da 80 anni è partner degli odontoiatri in tutto il mondo. Ma la qualità del nostro lavoro non dipende solamente dalla qualità indiscussa dei nostri prodotti. Frutto del progresso tecnologico e della più avanzata ricerca made in Germany in campo medicale. La qualità del nostro lavoro dipende anche dalla qualità del nostro customer service. Cioè dalla qualità del servizio assistenza e consulenza che offriamo tutti i giorni ai nostri clienti. E dipende anche dalla qualità della nostra rete di dealer e tecnici esperti presenti su tutto il territorio. Con cui abbiamo sviluppato negli anni un rapporto di collaborazione solito e proficuo. In Italia Dur Dental ha messo le radici a partire dagli anni 70. Da allora siamo cresciuti molto affiancando centinaia di professionisti, studi dentistici, laboratori. Consolidando la nostra presenza sul territorio. E diventando un marco d'eccellenza. Affermato e riconosciuto da tutti i professionisti del dentale. In questo percorso di crescita la nostra nuova sede di concorrezzo rappresenta certamente una tappa importante. La dimostrazione di quanto l'azienda ci tenga ad avere una presenza forte. Anche nel nostro paese. La dimostrazione tangibile. Di quanto vogliamo concretamente essere al fianco di partner e clienti. Con prodotti di qualità a pronta consegna e un customer service ad elevato valore aggiunto. La nostra nuova academy con due sale corsi attrezzate e con le più evolute tecnologie. Il nostro nuovo showroom per toccare con mano la qualità dei nostri prodotti. E la nuova sala raggi installata proprio nel cuore della nostra nuova sede. Sono i simboli di questa evoluzione. Ed è la nostra volontà di guardare insieme al futuro. Oggi vogliamo festeggiare insieme a voi un importante traguardo. Vogliamo celebrare insieme a voi i primi 50 anni di Durdental in Italia. Mezzo secolo di storia. Mezzo secolo di crescita e sviluppo. Mezzo secolo di impegno, assistenza, ascolto e vicinanza. Al servizio della comunità. Sempre più grande di professionisti medici. Adontoiatri e agenisti dentali che scelgono e continuano a scegliere Durdental per svolgere al meglio la loro pratica clinica di tutti i giorni. Se siamo arrivati a tagliare insieme questo traguardo, è per merito loro. È per merito vostro e della fiducia che ci accordate ogni giorno. Ed è per questo che vogliamo dirvi 50 volte Grazie 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 Grazie